Rigori incredibili e dove trovarli? Abbiamo proposto più volte in questo canale rigori quantomeno assurdi, potete trovare i link in descrizione, ma questi due sono forse i più assurdi di tutti. Sono quelli battuti da Jardel, attaccante del Ferenze con pagine della seconda divisione portoghese, omonimo della Scarpadoro poi Meteoro in Italia. Perché? Guardate le immagini, non hanno bisogno di ulteriori commenti. Grazie a tutti.